buongiorno ragazzi bentornati in un altro video oggi vi porto al bullying di informazioni su questo posto su internet non si trova praticamente niente se non che è stato abbandonato nel 2005 essendo in uno stato di abbandono da così tanti anni questo bullying è stato purtroppo parecchio vandalizzato e quindi si trova poco niente del suo utilizzo originale però comunque voglio farvi fare un giretto nella struttura quindi seguitemi e noi ci vediamo alla fine di questo video buona esplorazione iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale buongiorno 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 vi sia piaciuta e noi ci vediamo presto con un altro video perché ho altri bei posticini da andare a visitare quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina così non vi perdete più nessun video e mi raccomando ci tengo ed ogni commento qui sotto ovviamente è sempre ben accetto alla prossima ciao ciao